Anche Bottegone avrà il suo spoke per la vaccinazione anti-covid. La giovedì 18 novembre il distretto sanitario del paese alle porte di Pistoia ospiterà infatti un mini-hub per la somministrazione delle dosi di vaccino. La previsione, spiega l'Atla Toscana Centro, annunciando l'apertura, è di farne 420 a settimana. Sia prime che secondi dosi, ma anche terze, le cosiddette booster, numero che andrà a sommarsi con quelli degli altri punti presenti sul territorio. Con lo spoke di Bottegone sale così a 5 il numero dei punti di vaccinazione nell'area pistoiese. Il principale è il lab del circolo MCL di Pistoia. Qui si aggiungono le case della salute di Quarrate D'Aliana e il Piot di San Marcello. Per l'attività dello spoke di Bottegone, l'azienda sanitaria ha chiesto la collaborazione delle associazioni di volontariato locale per l'accoglienza delle persone che arriveranno. La campagna non si ferma anche in Val di Nievole. Nello stesso giorno in cui Pistoia saluta l'apertura del nuovo punto a Bugiano dalle 9 alle 15 si terrà un Open Day. L'iniziativa, di giovedì 18 novembre, è presso la pubblica assistenza di Via Martiri del 16 marzo 78. Una iniziativa spiega la ASLA fortemente evoluta dal sindaco Daniele Bettarini per facilitare, si legge in una nota con la quale si annuncia l'Open Day, la vaccinazione di persone che non hanno ancora aderito alla campagna. Oltre a loro la giornata è rivolta anche a chi ha più di 60 anni che abbia completato il ciclo vaccinale primario da sei mesi e che potranno quindi effettuare la terza dose. Per accedere, sottolinea l'ATL, non è necessaria la prenotazione e basta presentarsi portando con sé la tessera sanitaria.